A Enschede il 9 aprile del 75 immagini in bianco e nero con una partita che per la Juve finisce con il 3 a 1 subito ad opera della squadra olandese che va in vantaggio con Yeuring al ventesimo minuto. Il replay del gol di Yeuring, gol al ventesimo arbitra, Vigliani della federazione francese, il tuente Schiera-Gross, Van Iersel, Oranen, Thyssen, Overweg, Drost, Van der Waal, Muren, Yeuring, Pallplatz e Zuidema. 2 a 0, è proprio di Zuidema al sessantesimo, 2 a 0 per il tuente sulla Juventus. Rivediamo il gol di Zuidema al sessantesimo, la Juventus, Schiera-Zoff, Spinosi-Longobucco, Furino, Morini, Cirea, Viola, Causio, Anastasi, Capello, Bettega. C'è un altro gol che però per le statistiche arriva al 83esimo, noi vediamo il gol del 2 a 1 di Altafini, poi Zuidema all'83esimo fa 3 a 1. Qui rivediamo il gol del 2 a 1 di Altafini e si chiude qui la nostra rassegna, poi si passa direttamente...